Una partita da titolare, una partita per portare a casa tre punti e chiudere in bellezza. Sì, soprattutto volevamo questi tre punti, volevamo molto, alla fine siamo riusciti perché abbiamo giocato meglio, siamo stati più forti, avevamo molti occasioni di più di nostro avversario e alla fine quello ha pagato e abbiamo vinto e portiamo noi tre punti a casa. Il tuo bilancio personale di questo girone d'andata, sei soddisfatto, avresti voluto giocare di più e cosa ti aspetti dal girone di ritorno? Dal mio aspetto sono molto contento che sono arrivato a Varese, sono molto contento che ho trovato grandi compagni come insegnanti, come amici, come seconda famiglia. Sto imparando tanto, non voglio giocare sempre, sono giovane, voglio imparare perché ce l'ho grandi insegnanti che giocano, difensori centrali Martino, Angelo, mi aiutano molto e sono contento come va. Adesso arriva il Capodanno, lo passerai sicuramente in bella compagnia e quindi vuoi salutare qualcuno in particolare? Io sono ortodosso, per me arriva il Capodanno 13 di gennaio, però così saluto mia famiglia, mia ragazza, fidanzata, miei amici, voglio tutti bene, che stanno bene, senza malattie, senza infortuni e un grande saluto a Varese.